Contrasto e repressione dei crimini ambientali, lotta allo sommaltimento illecito dei rifiuti, ai roghi tostici, all'inquinamento dei terreni e delle falde acquifere, all'abusivismo edilizio. Da oggi le attività della Polizia, della città metropolitana e delle procure saranno ancora più integrate e connesse. È stata sottoscritta infatti un'intesa dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris, dal procuratore generale della Repubblica di Napoli Luigi Riello e dai procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Napoli Giovanni Colangelo, di Napoli Nord Francesco Greco, di Nola Paolo Mancuso e di Torre Annunziata Alessandro Pennasilico rappresentato dall'Aggiunto Marco Manzi per coordinare le azioni di Polizia Giudiziaria per la tutela e il monitoraggio dell'ambiente del territorio e per la gestione di sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano. Nel rispetto del segreto d'indagine, l'ufficio di procura si impegna dal canto suo a trasmettere alla città metropolitana ogni atto che contenga elementi utili alla prevenzione dei reati, al risanamento dei pezzi più martoriati del territorio ed alla sicurezza dei cittadini. La città metropolitana, invece, assicurerà la disponibilità presso gli uffici delle procure di oltre 30 agenti di polizia che opereranno in coordinamento diretto con l'autorità giudiziaria. Nel documento, siglato nel pomeriggio di ieri nella sala biblioteca della Procura Generale presso il Palazzo di Giustizia di Napoli, si evidenzia, tra l'altro, che le risorse di polizia specializzate in materia ambientale, il Noi dei Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato, l'ARPAC, non sono affatto sufficienti ad un compito che purtroppo nel nostro territorio si presenta di particolari empiezze e difficoltà e che la Polizia Provinciale di Napoli ha dimostrato in questi anni una indubbia competenza in materia. Io direi che oggi è un giorno particolarmente importante perché il primo accordo di programma di questo genere che viene stipulato in Italia, l'abbiamo fatto noi come autorità giudiziaria e la città metropolitana ed ha ad oggetto un tema che abbiamo posto, direi, doverosamente al centro della nostra attenzione e delle nostre priorità, la tutela dell'ambiente che non può essere oggetto di declamazioni ma di fatti concreti perché la gente sente bruciare sulla propria pelle i problemi connessi a quello che è stato definito non solo uno scempio ma lo stupro del territorio, dalla terra dei fuochi al fiume Sarno a tante altre zone e sappiamo quali sono state le conseguenze devastanti. Allora questa convergenza istituzionale tra l'autorità politica, l'autorità della città metropolitana, da un lato la procura generale e tutte le procure della Repubblica della provincia di Napoli nel riconoscere questa priorità, nel dare da parte della città metropolitana delle forze delle forze investigative della polizia provinciale che saranno preziose ai fini della scoperta della prevenzione e della repressione di questi reati, credo che sia un passo operativo di grande rilevanza che costituisca una risposta concreta dopo tante vetrine di buona intenzione. Noi dobbiamo guardare a quelle che sono le criticità in atto da tempo, l'inquinamento del fiume Sarno che significa l'inquinamento dell'intero Golfo di Napoli, la terra dei fuochi che ha visto un'opera veramente orribile da parte della criminalità organizzata nel mercato dei rifiuti, lo sversamento dei rifiuti e l'avvelenamento delle falde acquifere, ecco questi sono dei problemi che noi abbiamo di fronte e che sono stati purtroppo dimenticati per troppo tempo. Nel momento in cui abbiamo avuto le propalazioni dei collaboratori di giustizia, i primi risultati investigativi perché non partiamo da zero, ecco far sì che questo patrimonio non venga disperso e che vi sia maggiore incisività, maggiore specializzazione perché la polizia provinciale conta tra le sue file molti specialisti del settore, significa fare dei passi in avanti in relazione al bene primario della salute dei cittadini. Noi a questo guardiamo come uno degli obiettivi prioritari, l'ho detto fin dall'inizio del mio insediamento e ho trovato un interlocutore sensibile e, ripeto, molto operativo nel dottor Luigi De Magistres. Noi siamo tutti impegnati su questo settore, e io ho dato un segnale fortissimo, ripeto, in una duplice direzione. Da un lato mantenimento della polizia presso la città metropolitana, mentre l'indicazione della legge è mandate tutti fuori e poi una parte di questo personale specializzato lasciarlo all'autorità giudiziaria. E questo è un segnale, secondo me, di sensibilità istituzionale e di difesa del territorio importante.